Un po' di fare questo bilancio quest'oggi per la ferrovia. Direi che non possiamo dire che siamo contenti di finire al sesto posto, ma visto il risultato generale della gara poteva essere peggio. Non dimentichiamoci che siamo partiti in quinta fila con le due macchine, che le due macchine finiscono in dieci sette secondi del primo, dunque sono otto macchine in dieci sette secondi, dunque è una gara molto disputata. La Williams prende con Vilna solamente un punto in più e per i costruttori ne perdiamo cinque, rimaniamo con uno di vantaggio, dieci sui piloti, dunque temevo peggio. Danni limitati possiamo dire. Ecco, da questo punto di vista era questa la bestia nera intesa nel senso di pista, come tracciato, oppure effettivamente il futuro presenta altre incognite? Sì, presenta altre incognite, già perché in Austria siamo mai andati. Beh, ma non c'è andato nessuno. Sì, ci sono certe squadre che sono già andate. Infatti Vilna ne ha addirittura provato. Penso che non dovremmo essere così male e quello che è importante è di poter dirci che il campionato rimane aperto. Sì, non sono conti da farsi, però Germania potrebbe essere favorevole anche come clima, eccetera, Spagna ha anche, quindi più o meno basterebbe tenere il passo, insomma, no? Bisogna. È doverò. Grazie. Bene, ancora la linea Roma. Grazie.